Sabato 27 giugno, buongiorno e benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione in regia Marco Presutti. Dopo l'emergenza lavoro mai risolta, sulla giunta regionale si abbatte la tegola della questione morale. Partiti e movimenti chiedono le dimissioni del governatore e puntano il dito sull'inchiesta Biocom che coinvolge direttamente Paolo Frattura. È più grave della vicenda Elcom, ha dichiarato Massimo Romano, il servizio di Giovanni Minicozzi. Vicende giudiziarie e vicende politiche, un intreccio equivoco e allarmante che ricade inesorabilmente sui molisani già allo stremo per effetto di una crisi senza fine che ha distrutto il tessuto economico e produttivo di un'intera regione. Nessuno lo aveva previsto, ma la questione morale è diventata la vera emergenza e le prese di posizioni su un tema così scottante si susseguono, seppur in modo contrastante, tra chi chiede le dimissioni di Paolo Frattura e chi continua a sostenerlo. Sullo sfondo però resta la vicenda Biocom e il caso Scarabeo. In effetti due reazioni contrastanti ma entrambe in qualche modo sgradevoli a mio avviso. Da un lato si assiste a dichiarazioni di militanti o elettori del centro-sinistra che quasi hanno festeggiato per questo arresto nei confronti di un assessore del loro stesso partito o della loro stessa coalizione che oltre che deplorevole sul piano umano è poco piacevole sotto quello politico e comunque incomprensibile. Dall'altro chi invece osserva per contro un silenzio che è altrettanto anomalo. Penso al silenzio di Antonio Di Pietro ad esempio che immagino cosa sarebbe successo, che cosa avrebbe fatto, che cosa avrebbe detto se questa vicenda avesse riguardata un'aggiunta di un'altra parte politica o dove lui non è in modo così presente un grande sostenitore. È un silenzio che però è anomalo e rafforza quello che ormai è chiaro che c'è un rapporto che non si comprende per quale motivo per l'appunto due pesi e due misure. L'altro Di Pietro, Cristiano, invece sostiene che la regione parte l'ese della vicenda e quindi frattura deve andare avanti e non deve dimettersi. Ma bisognerebbe chiedere innanzitutto come abbia fatto, come lo sappia, come abbia fatto a leggere le carte della procura visto che è considerato che le indagini sono ancora in corso e però il problema politico resta sul tappeto che si continua a guardare la pagliuzza negli occhi degli altri e continuano invece a far finta di ignorare la trave che è negli occhi, nello specifico del governatore. Perché vorrei ricordare che c'è ancora pendente la vicenda Biocom che riguarda il governatore in persona e fermo restando la presunzione di non colpevolezza che vale per scarabè o così come vale per frattura, resta il problema politico. In quel caso addirittura le somme che si contestano sono addirittura maggiori e in quel caso, cioè nel caso del governatore, lui continua ad essere governatore a fronte del fatto che c'è un contenzioso anche giurisdizionale innanzi al Consiglio di Stato oltre che come si apprende dai giornali pendente alla procura della Repubblica. Questo comportamento che per l'appunto si finge di chiudere un occhio per una vicenda e invece si chiude allo scandalo per l'altra secondo me è sintomatico di alcuni rapporti che non funzionano più e questo credo che ormai sia chiaro un po' a tutti. Ormai c'è emergenza anche sulla questione morale? Quello che si sta verificando oggi è quello che avevamo anticipato in campagna elettorale per filo e per segno, con la pubblicizzazione della famosa mappa del potere dove era chiarissimo come si sarebbero divisi le poltrone e gli incarichi politici, gli incarichi pubblici e anche i grandi affari privati che si stanno facendo. Quindi la questione morale c'è non da oggi ma c'è già da allora. Oggi assume delle tinte patologiche, ancor più patologiche perché stanno emergendo dei fatti che oggettivamente illustrano quello che non è più un caso isolato ma è un vero e proprio sistema che fa capo al presidente Frattura e rispetto al quale io credo che sia il minimo che ci sia una reazione sociale di non accettare supinamente e passivamente questo stato di cose come se fosse normale perché a mio avviso e dell'opinione credo che cominci ad essere maggioritaria non è affatto normale quello che sta accadendo. Lavorano da anni negli ospedali della regione ma si allontana sempre di più il diritto di essere stabilizzati. I precari della sanità contestano i nuovi provvedimenti dell'ASREM e sono pronti a presentare ricorso. Ce ne parla in questo servizio Fabrizio Occhionero. Sanità regionale dilagnata dai tagli e poi ci sono i precari che da anni prestano servizio negli ospedali e non si sono visti ancora riconoscere i diritti maturati nel tempo. Una protesta rinnovata a Termoli per contestare le decisioni assunte dalla ASREM e impugnare i provvedimenti. Tanti lavoratori pronti a condividere la strada dei ricorsi. Stanchissimi di essere precari perché è una situazione veramente insostenibile soprattutto visto quello che sta succedendo ultimamente. La ASREM non sta rispondendo a quello che noi chiediamo che è un nostro diritto, anzi sta emanando dei decreti a livello regionale che vanno contro i precari che hanno dato una vita e sono al servizio del cittadino per garantire i livelli assistenziali. Sono diversi gli aspetti affrontati per istruire i ricorsi e ribadire le rivendicazioni dei lavoratori in un contesto di grande incertezza. Adesso si vengono addirittura preferiti lavoratori di graduatorie approvate da altre regioni che quindi inevitabilmente passeranno davanti a loro. Il rischio concreto con gli ultimi atti adottati dalla ASREM di ritrovarsi addirittura fuori anche dalla possibilità di lavorare come precari. Questo ci sembra una profonda ingiustizia. Visto che dopo la nostra diffida dove sollecitavamo la ASREM a rivedere questi provvedimenti fortemente penalizzanti per i lavoratori e di fronte alla mancata risposta da parte della ASREM alle istanze dei lavoratori non ci vediamo costretti a impugnare anche in via giudiziaria questi provvedimenti. E per sostenere la causa dei precari della sanità molisana è sceso in campo anche il movimento difesa del cittadino. Tutte le occasioni in cui si tratta di difendere i diritti del cittadino e i diritti della sanità ed in questo caso specifico i diritti dei precari. I precari hanno un sacrosanto diritto che vanno assolutamente stabilizzati. Stiamo assistendo a chiusura di ospedali e a chiusura di reparti. Se non ci fossero stati i precari nella regione molise gli ospedali e i reparti avrebbero chiuso da decenni. Quindi i precari vanno assolutamente stabilizzati e tutelati sotto ogni aspetto. Nella giornata di oggi l'Associazione Banco di Solidarietà di Campobasso organizza in collaborazione con diverse parrocchie una raccolta alimentare straordinaria a favore delle famiglie bisognose della provincia di Campobasso. I volontari presenti all'ingresso di supermercati aderenti all'iniziativa consegneranno un sacchetto e un volantino invitando ad acquistare generi alimentari a lunga conservazione. Bene, con la nostra informazione è tutto. Adesso passiamo alla rassegna stampa. Iniziamo come sempre con il giornale del molise.it. In primo piano, compagni di ieri e marpioni di oggi. La questione comunista in Molise, storia di una truffa elettorale. L'articolo è a firma di Pasquale Di Bello. Le altre notizie, Scarabbeo, avvocati al contrattacco, nuovo interrogatorio e ricorso al riesame. Will, Boccardo della Will, dice che le sentenze della consulta in Molise valgono il doppio per quanto riguarda anche la questione di occupazione e pensioni e soprattutto pensioni. Ancora nel mondo sindacale, CGL, disegno di legge e buona scuola, un atto grave. Acem è guerra aperta contro la regione. Ora basta, dicono gli imprenditori. Pronta la mobilitazione. Si parla anche dell'emergenza a sfratti, presidio a Campobasso in piazza Prefettura. Fronte comune tra Venafro e Larino per salvare il salvabile al Santissimo Rosario e al Vietri, i due ospedali. Cinque artisti uniti in una sola passione, riuscita all'estemporanea al castello Svevo di Termoli. Si parla anche dei socialisti che chiedono le dimissioni di frattura lontano dalla realtà, dicono, e dai problemi della gente. Abbiamo visto precari della sanità pronti ai ricorsi in una situazione sempre più insostenibile. Ancora altre notizie. Vi segnalo la sezione editoriali, idee e opinioni. Poi le notizie che arrivano dalla regione, dall'Italia e dall'estero. Vediamo primo piano Molise che dedica l'apertura alla cronaca giudiziaria. L'ex assessore Scarabeo fa scena muta davanti al GIP. Ieri all'interrogatorio di garanzia pure il fratello si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto la finanza ha esteso le verifiche ad altre società del gruppo. Ristretto ai domiciliari, il giudice ha delimitato l'area della proprietà entro cui il politico democratico può muoversi. Restiamo in argomento. C'è una lettera del vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera, Luigi Di Maio, sul caso Molise. Dice che il conflitto di interessi sta ammazzando gli onesti. L'esponente dei grillini attacca frattura e dice che non poteva certo riconoscere le fatture false, ma non doveva permettere ad un componente della sua giunta di finanziare l'azienda di famiglia. Vediamo le altre notizie. Siamo a Termoli, rivolta del re baricentro del rilancio Alfa Romeo. Nello stabilimento sarà prodotto il motore della nuova Giulia. Campo basso, disposta all'autopsia sul corpo del 26enne di Limosano. Ci spostiamo a Termoli, madre e figlio rischiano di annegare salvati da due Baywatch. A centro pagina adesso da Isernia, causa Palazzo San Francesco, Brasiello difende le proprie scelte, ma pure PD e Isernia di tutti fanno le barricate. Fuoco amico sul sindaco, sempre più solo. A Campo basso ricerca contro il cancro, un premio nel nome del giudice Gianni Falcione. Ricostruzione e opere pubbliche, imprese allo stremo, subito i soldi o sarà mobilitazione ad oltranza. Questo dunque l'ultimatum dell'ACEM alla Regione. Andiamo a vasto, referendum sul parco, salta la discussione e l'opposizione occupa l'aula consigliare. Il calcio di Serie D, Lupi, Minadeo, blocca Under di società professioniste. Agnuno intanto decide, si chiederà il ripescaggio. Anche l'inchiesta sul calcio sporco, diciamo così, treni del gol. Mercoledì l'interrogatorio a Larino per Arbotti. Chiudiamo primo piano, passiamo al quotidiano, apertura, pagamenti, lavori post-sisma. L'ACEM in calza, dice più puntualità. Di Niro, che è il presidente, sbloccate i fondi, al più presto sarà mobilitazione ad oltranza. In alto leggiamo Ciocca, delegato alla ricostruzione, rassicura i 68 milioni per le imprese disponibili a breve. In alto, sotto la testata, da Termoli e i motori a benzina della Nuova Giulia verranno realizzati nello stabilimento di rivolta del Re. Partono intanto i colloqui per l'assunzione di 50 lavoratori. Sulla destra, GAM, frattura saluta Baranello da il benvenuto a Berchicci. Ieri il nuovo amministratore unico si è insediato, approvato il bilancio 2014 della GAM. Per la giudiziaria, nel box sulla spalla, Scarabeo sotto inchiesta dal GIP, la difesa temporeggia. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Berlusconi deve risarcire Di Pietro per 90 mila euro, aveva detto. La sua laurea è falsa. Notizia di attualità sulla sinistra, il frutto anticancro che nasce in Molise va ad Expo 2015. Altri richiami, notizia che riguarda Limosano, Melacronica, autopsia e funerali per l'estremo saluto a Luca. Dunque disposto l'esame autoptico sul corpo del 26enne vittima di un incidente sul lavoro. A Termoli, Calciopoli, il sindaco difenderà l'indagato Arbotti. Sbrocca nei panni di Avvocato, difensore dell'agente FIFA. Indagato. Andiamo al calcio, quello giocato, Serie D, Lupi. Nel mirino di Minedeo ci sono i molisani, Sivilla e Borrelli. Calcio a 5, Venafro, Francesco Giglio Fiorito saluta i bianconeri. Ad Agnone, adesso la società Granata presenterà domanda di ripescaggio. Le possibilità per giocare in Serie D ci sono. Il nuoto, Angioculu, chiude positivamente l'avventura in azzurro a Bacu. Dal quotidiano alla Gazzetta del Molise, vediamo le ruspe marciano sulla regione. C'è la foto del consigliere delegato Salvatore Ciocca. Imprese allo stremo attaccano Ciocco, l'abbiamo visto anche su altri quotidiani. Oggi l'Oscar viene assegnato ad Angelo Di Stefano, il tapiro invece a Francesco Pilone. Uno sguardo al telematico futuro Molise. In alto, Isernia 28-29 giugno, Fiera di San Pietro e Paolo. Evento a cura delle rotaie, il futuro sviluppo agricolo della Cipolla. C'è un treno storico da Sulmona. Ad Isernia, restiamo. Ad Isernia, Calenda, consigliere comunale, pensionati sempre vessati. I rimborsi sono all'ordo, è una vera e propria beffa. Pagamenti di costruzione Ciocca risponde all'ACEM. Si preferisce la polemica solo per avere visibilità sui mass media. Di Niro si starà preparando alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi. E questo è quello che chiede il consigliere Ciocca al presidente Di Niro. Parliamo di scuola, di segno di legge. La CGL Molise, la fiducia del Senato non cancella la sfiducia delle scuole. E qui c'è la foto di ieri, la manifestazione davanti all'Enrico Dovidio a Campobasso. GAM ha approvato il bilancio 2014, frattura grazie all'ingegnere Banerello per il lavoro svolto. Qualche altra notizia? Vediamo, siamo sempre su futuro Molise. Siamo in alto. L'ACEM dunque repica al consigliere Ciocca. Consigliamo l'Isola dei Famosi per non aggravare la sua permalosità. Questo per quanto riguarda il Botta è risposta tra Ciocca e l'associazione Costruttori Edili del Molise. Un venerdì di terrore. Ieri, tre continenti. Vedete il titolo del Corriere della Sera. Adesso siamo ai quotidiani nazionali. Stragi dopo l'appello dell'Isis a colpire durante il Ramadan. Tunisia, comando in spiaggia. Il bilancio di 37 vittime pare che si sia aggravato nelle ultime ore. In Francia, assalto di una fabbrica con una bandiera jihadista. Un decapitato. Attacchi in Kuwait e Somalia. Vedete questa tragica foto? Le vedremo anche altre sui quotidiani nazionali. E delle testimonianze. Il mitra nascosto nell'ombrellone. Sparavano soltanto su noi turisti. Dicevamo di foto drammatiche. Abbiamo visto il Corriere della Sera. Adesso siamo su Repubblica. Stato islamico. Il Ramadan di sangue. In Tunisia, la strage più grave. Assalto al resort dei turisti. 37 vittime sulla spiaggia. Orore anche a Lione. Decapitato un imprenditore. Scritte arabe sul suo viso. Colpiti Kuwait e Somalia. Cresce l'allarme in Italia. Rafforzata la sicurezza. C'è un'altra notizia che riguarda la politica interna. Interna Campania. Sospeso De Luca, il neogovernatore. Renzi, sì al decreto, ma il governatore potrà fare l'aggiunta. Chiudiamo Repubblica. Siamo adesso sulla stampa. Anche qui grande foto. La vedete. Le forze di polizia tunisine sulla spiaggia di Sus. ISIS, l'onda globale del terrore. Tunisia, commando jihadista, arriva dal mare e fa una strage nel resort. Uccisi 37 turisti. Altri 36 feriti. A Lione decapita il datore di lavoro e cerca di far esplodere una centrale del gas. Kuwait, bombe alla moschè. Abbiamo visto che ci sono stati anche interventi a un attentato in Somalia. Immigrati compromesso UE. Grecia è il giorno della verità. Sul caso De Luca, leggiamo sempre sulla stampa, il premier firma il decreto di sospensione del governatore. Uno sguardo adesso al fatto quotidiano. Il califo colpisce dove vuole. La bandiera nera dunque dalla Francia alle spiagge della Tunisia. Terrore e sangue nel venerdì del Ramadan. Assaltati due resort a Sus. Sono arrivati in gombone e poi gli spari, le testimonianze, abbiamo visto che nascondevano i kalashnikov dentro in alcuni ombrelloni. La politica interna, la Severino spaventa Renzi che butta a mare De Luca. Un mese dopo il premier sospende il governatore neoeletto nel Partito Democratico. I maledetti, titola il giornale. Assassini islamici. Giornata di terrore. In Tunisia strage sulla spiaggia massacrati 37 turisti. In Francia, attentato ad una fabbrica di gas, ucciso il proprietario, usata la sua testa come firma. È la prima decapitazione dell'Isis in Europa. Si parla anche di un vero e proprio disegno criminale. Il califato vuole dominare le nostre vite. E poi c'è la Francia che torna nel mirino. Quella grandeur dimezzata dalla politica corrente. Il governo, vediamo ancora, regala l'Italia ai terroristi senza difese, scrive il giornale. Uno sguardo adesso a Libero. La rabbia senza orgoglio. Apocalisse islamica. Due attentati e 37 morti nelle spiagge per stranieri. In Tunisia un decapitato in nome dell'Isis in Francia. L'Europa dei pavidi, scrive il giornale di Maurizio Belpietro e degli stupidi, non combatte la violenza jihadista e spera che finisca da sé. Tra l'ironico e il sarcastico il titolo del tempo. Buone vacanze. Terroristi in un deposito di gas a Lione tagliano la testa ad un manager. Strage in Kuwait sulle spiagge tunisine uccisi 37 turisti. Paura a Roma per il killer Isis arrestato a Fiumicino. Poi il tempo aggiunge l'Europa paga i suoi errori e parla ancora di una guerra mondiale. Siamo sul quotidiano dei Vescovi a venire. Tre colpi d'odio offensiva dello Stato islamico. Anche qui c'è un'analisi Europa-Asia-Africa terrore globale. E un'intervista non si vuole una Tunisia democratica. Vediamo quest'altra drammatica foto. Profughi in Europa. E' un'altra notizia. Accordo solo a metà. C'è un vertice. Redistribuzione su base volontaria Renzi. Ma si supera comunque l'accordo di Dublino. Quel passo avanti, ha detto il Presidente del Consiglio, è stato fatto. Siamo sul mattino. Stragi e terrore. C'è la firma dell'Isis. Assalto sulle spiagge di Tunisi. Abbiamo visto il bilancio. Raid anche in Francia, Kuwait e Somalia. La politica interna. Renzi sospende De Luca. Salta il decreto. Salva Atti. Uno sguardo adesso al mondo dello sport. Sulla Gazzetta. In apertura si parla del Milan. Che prende quota. Attacco si avvicina o bacca. Ecco l'accordo con Mr. B. In alto invece c'è il basket. Storica Sassari lo scudetto è tuo. Basket thriller. I Sardi battono Reggio Emilia in gara 7. È dunque triplete. Primo titolo Coppa Italia e Supercoppa. Sulla spalla il motociclismo. Il sabato di Vale in Pol Adassen. Tenta l'allungo su Lorenzo che è ottavo. Bene come sempre con la Gazzetta. Concludiamo l'appuntamento del mattino. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata. Vi ricordo alle 14 il telegiornale con tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti. Arrivederci. Grazie per averci seguito.